Due anni e mezzo di carcere, è la pena che l'attivista russo per i diritti umani Oleg Orlov deve scontare. Orlov è stato condannato da un tribunale di Mosca per aver ripetutamente screditato l'esercito in un articolo pubblicato sulla rivista francese Mediapar. L'articolo criticava anche la guerra in Ucraina. 70 anni, già presidente dell'ONG Memorial, sciolta dalle autorità russe nel dicembre del 2021, l'attivista ha detto di non pentirsi di nulla. La pena detentiva è stata combinata dopo la multa iniziale di 1.500 euro.